Ma un paese serio discute dei problemi veri che ha e i problemi veri che ha l'Italia oggi di fronte sono quelli di un paese in drammatico calo demografico che tradotto in termini economici significa perdita di peso e di potenza economica. Quindi il problema che ci dobbiamo porre è quello di allestire un sistema di accoglienza e integrazione che anzitutto parta dai diritti degli individui. Il nostro paese ha bisogno di milioni di nuovi italiani.